La Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con la collaborazione del Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata, ha eseguito nelle province di Roma, a Reggio Calabria e Sassari, un'applicazione di misura cautelare nei confronti dei sodali di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina operante sotto legida della cosca di Indrangheta, Bellocco di Rosarno. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato messo nei confronti di Emanuele Oliveri, Domenico Pepe, Alessandro Galanti, Antonio Ponziani e Alessandro Larosa. I cinque sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di associazione per delinquere fino a iniziare dal traffico internazionale di sostanze stupefacenti per essersi associati tra loro in un gruppo criminale articolato su più livelli, comprensivo di squadre di operatori portuali infedeli, allo scopo di commettere più delitti concretizzatisi nel reperire ed acquistare all'estero, importare e trasportare in Italia attraverso navi in arrivo al porto di Gea Tauro ed in altri porti nazionali nonché commercializzare ingenti quantitativi di stupefacenti del tipo cocaina con l'aggravante della transnazionalità e dell'aver commesso i fatti al fine di agevolare l'attività della cosca di Indrangheta, Bellocco operante a Rosarno e nelle zone di Mitrofe in altre zone d'Italia e all'estero. La droga arrivava nel porto di Gea Tauro dal Sud America e dal Nord Europa. Nell'ambito della stessa operazione sono stati complessivamente sottoposti a sequestro 527 panetti di cocaina purissima per un peso complessivo di quasi 600 kg e sono state ricostruite ulteriori importazioni di stupefacenti per altri 312 kg sempre di cocaina.